Buongiorno e un cordiale benvenuto agli ospiti convenuti. A inizio la cerimonia di firma dei protocolli di intesa sulle modalità di collaborazione del progetto Bandiera Centro Nazionale di Medicina Computazionale della Regione Liguria e del protocollo di intesa per la realizzazione dei progetti Bandiera Hydrogen Valley, ai sensi dell'articolo 33,3 lettera B del decreto legge 6 novembre 2021 numero 152, convertito con modificazioni della legge 29 dicembre 2021 numero 233. Introduzione del Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Maria Stella Gelmini. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente Draghi, i colleghi, il Ministro Cingolani, il Ministro Messe e il Ministro Speranza. Un saluto e un augurio di benvenuto al Presidente della conferenza Massimiliano Fedriga, al Vice Presidente Emiliano, al Presidente Bardi, alla Presidente Donatella Tesei e al Presidente Toti. Siamo qui per concludere i primi sei progetti Bandiera. Sapete che all'interno dell'articolo 33 del decreto di governance sul piano nazionale di ripresa e resilienza è stata ritagliata la possibilità in capo a tutte le regioni italiane di individuare un progetto particolarmente significativo, un progetto simbolico legato appunto alle sei missioni del piano. Ringrazio il Presidente Toti per aver scelto un progetto unitamente ai colleghi, il Ministro Messe e il Ministro Speranza, legato a un IRCS computazionale, mentre le altre regioni hanno scelto di contribuire alla decarbonizzazione attraverso dei progetti legati all'idrogeno. E quindi oggi cominciamo con questi primi sei progetti, ai quali ovviamente ne seguiranno molti altri. Anche altri colleghi di Governo stanno contribuendo al finanziamento nell'ambito non solo della salute, dell'Università, della transizione ecologica, ma anche della transizione digitale, del mezzogiorno, per citarne solo alcuni. E quindi ci auguriamo nell'arco di qualche mese di poter completare la conclusione dei progetti bandiera in tutte le regioni italiane. Intervento del Ministro dell'Università della Ricerca, Cristina Messa. Buongiorno a tutti, saluto tutti i presenti e ringrazio per questa iniziativa la Ministra Gelmini. Il progetto che riguarda questo Ministero è il progetto con la Regione Liguria, dove si inserisce questo centro di medicina computazionale in un ambito molto più complesso, che con la Regione Liguria stiamo facendo, che riguarda in generale la medicina di precisione, l'uso delle tecnologie per varie applicazioni, inclusa la medicina, e ricordo che anche la Liguria ha un ecosistema territoriale della ricerca che ben si correderà a questo progetto. Quindi nell'insieme è una misura che integra quello che è già presente e che permette quindi di arrivare a risultati in tempi più brevi e magari anche più precisi. Grazie. Intervento del Ministro della Salute, Roberto Speranza. Sì, grazie. Anch'io saluto tutti i Presidenti di Regione. Questo progetto bandiera legato alla Regione Liguria credo che sia di particolare importanza e sta dentro una stagione nuova di investimenti che stiamo costruendo sul nostro Servizio Sanitario Nazionale. Voglio ricordarlo. In pochi mesi sono stati messi 10 miliardi in più sul Fondo Sanitario Nazionale, 20 miliardi sul PNRR e per la prima volta un PON salute. Dentro questo ambito il progetto bandiera che riguarda la Regione Liguria, cioè questo centro di medicina computazionale, ha un tasso di innovazione molto molto rilevante e l'obiettivo di fondo è quello di mettere a sistema due rivoluzioni fondamentali di questo tempo. Da un lato la rivoluzione genomica, dall'altro lato la rivoluzione dei big data. Mettere insieme, mettere a sistema queste due rivoluzioni ci consentirà di rafforzare la nostra capacità su un terreno rilevante come quello della medicina personalizzata, della medicina di precisione e chiaramente questo sforzo lo faremo sul territorio anche connettendo la nostra iniziativa ai due IRCS che sono già presenti, quello del San Martino e quello del Gaslini che sono due realtà molto rilevanti del territorio. Intervento del Presidente della Giunta regionale della Liguria, Giovanni Toti Signor Presidente Draghi, Ministri, cari colleghi, io sono particolarmente soddisfatto di questo progetto per molti aspetti. Il primo è un progetto complesso che mette insieme fonti di finanziamento diverse e credo che sia anche lo spirito del PNRR quello di usare questi fondi come moltiplicatore e tessuto connettivo di progetti più ambiziosi rispetto anche alle fonti di finanziamento stessi del PNRR. La seconda ragione di soddisfazione è legata al fatto che essendo legato a una ricerca legata alla salute e alla sanità tema assai sensibile degli ultimi due anni per tutti noi e per tutto il Paese se non per il mondo credo che sia una risposta anche ai bisogni dei cittadini del prossimo futuro e questo credo anch'esso vada nella direzione di modernità del PNRR. Ultima dato di questo progetto per cui ringrazio ovviamente non solo Regione Liguria, coloro che l'hanno pensato l'Università, l'IT e come si colloca in un ecosistema come ha detto il Ministro Messa particolarmente fecondo in Liguria ma penso anche che vada un po' oltre il tema delle infrastrutture materiali per creare quella competitività in termini di ricerca che poi diventerà competitività in termini anche di industrializzazione di prodotto insomma diventa qualcosa che realmente può far crescere il nostro Paese sia come qualità scientifica sia come qualità industriale e credo che sia un altro dei grandi compiti che il PNRR ci affida per poi far sì che questi soldi abbiano un ritorno importante in termini di qualità della vita e in generale di qualità del Paese. Quindi ringrazio tutti a partire dal Ministro Germini che ci ha ovviamente creduto e che insieme ai suoi tecnici ha lavorato a lungo per questo progetto. Per il protocollo d'intesa per la realizzazione dei progetti bandiere Hydrogen Valley introduzione del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Maria Stella Gelmini In realtà io ho poco da aggiungere se non ringraziare il Ministro Cingolani e tutti i Presidenti di Regione per quella che è insomma un pezzo della seconda missione del piano appunto la transizione ecologica. Mi fa piacere che molti progetti bandiera non solo fra quelli che presentiamo oggi riguardino proprio la missione numero due a significare che c'è una grande sensibilità presso le Regioni in questo tema. Quindi grazie davvero e buon lavoro a tutti. Intervento del Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani Grazie a tutti. Allora rapidamente il protocollo riguarda un'azione specificatamente costruita dall'Europa che è quella delle Hydrogen Valleys. Non so perché le chiamino valli, poteva andare anche in pianura, in collina. Comunque insomma le chiamano Hydrogen Valley, sono i distretti dell'idrogeno. Sapete che l'Europa ha un target di arrivare a 500 MW in tempi relativamente brevi per la produzione dell'idrogeno che è un accumulatore di energia molto prezioso per la futura decarbonizzazione. Il protocollo riguarda cinque Regioni, Basilicata, Friuli-Venezia-Giulia, Piemonte, Puglia e Umbria. In queste Regioni verranno costruiti questi distretti per la produzione di idrogeno cosiddetto verde, cioè idrogeno prodotto con una tecnica che è l'idrolisi che viene alimentata, consuma molta energia elettrica, dovrebbe essere alimentata solo da energia elettrica verde. Quindi è strettamente connesso alla nostra capacità di produrre energia elettrica rinnovabile. Sono due target. Il primo è scadenza a marzo del 2023. Per darvi un'idea, uno è il 48esimo traguardo della missione che contrasta il cambiamento climatico del PNRR. Il 48esimo traguardo atteso per marzo del 2023 e che poi è seguita da una misura di più lungo termine che scade a giugno del 2026. La prima, quindi a marzo del 2023, si tratta di identificare le zone industriali dismesse in cui costruire, di concerto con le Regioni, questi distretti dell'idrogeno. Dovranno produrre meno di 3 tonnellate di anidride carbonica per tonnellata di gas. E il secondo target, quello di giugno del 2026, è portare questi cinque distretti a produrre fra 1 e 5 megawatt di potenza totale. Quindi c'è un recupero, un ripristino di territori dismessi di ex uso industriale, un'operazione di installazione di nuove tecnologie. Tutte queste linee guida verranno sviluppate insieme con le Regioni e dal Ministro della Transizione Ecologica e si costituirà un comitato di coordinamento e monitoraggio che in tempo reale seguirà lo sviluppo del progetto. Credo che sia un'ottima notizia e ci mette in linea con i migliori Paesi d'Europa in questo settore che è strategico per il futuro. Intervento del Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Federica. Grazie. Vorrei iniziare ringraziando il Ministro Gelmini per la collaborazione che c'è e c'è stata con le Regioni anche su questo tema per quanto riguarda i progetti bandiera. Ovviamente il Ministro Cingolani per la disponibilità data per quanto riguarda l'Hydrogen Valley. Questo è un tema, devo dire, particolarmente importante, soprattutto nel momento storico e anche viste le tensioni internazionali che sta vivendo l'Europa e il nostro Paese. C'è l'approvvigionamento energetico e la capacità di fornire fonti alternative di approvvigionamento ai nostri realtà produttive, ma devo dire, anche la parte civile è molto importante. Su questo tutta la parte dell'idrogeno nella missione 2 è molto importante. Sono molte risorse che ovviamente saranno diffuse a livello nazionale ed alcune saranno specifiche invece per queste 5 best practices, così le vorrei chiamare, di queste 5 Regioni, che potranno essere ovviamente motore di crescita per tutto il Paese. Cioè queste 5 Regioni, con quello che diceva il Ministro Cingolani, con questo coordinamento, l'idea è quella di specializzarle in temi specifici riguardando ovviamente l'idrogeno, così da poter espandere queste, diciamo, best practices a livello nazionale. Le Regioni si sono messe a disposizione e ringraziamo ovviamente il Governo e il Presidente del Consiglio Draghi perché la collaborazione istituzionale, che soprattutto in temi come questi, che sono particolarmente dedicati ai strategici per il Paese, è fondamentale e le Regioni ovviamente sono a disposizione. Grazie. Intervento del Presidente della Giunta regionale del Piemonte, Alberto Cirio. Grazie, buongiorno Signor Presidente Draghi, buongiorno Signori Ministri, grazie di questo momento così importante e concreto. Per il Piemonte questo è un passaggio estremamente significativo perché parliamo di riconversione di aree industriali dismesse. E il Piemonte, in particolare con la zona di Torino e con la crisi dell'auto di ormai una decina di anni fa, ha tutta una serie di potenzialità che possono davvero diventare il luogo naturale all'interno del quale produrre idrogeno andando a recuperare un patrimonio urbanistico, andando a rioccupare sotto il profilo appunto lavorativo persone che, andando verso l'elettrico, evidentemente il passaggio dal termico all'elettrico si chiama transizione apposta perché deve essere un passaggio non traumatico in termini occupazionali. Noi crediamo molto che questo investimento sull'idrogeno possa recuperare molti posti di lavoro che diversamente verrebbero persi. In più si valorizza la capacità di ricerca e innovazione di una regione come la mia che ha al suo interno il Politecnico di Torino, che da sempre è uno stakeholder importante a livello internazionale in questo settore. E infine il Ministro Cingolani, che ringrazio, parlava di idrogeno verde, parliamo di idrogeno prodotto con energie pulite, con energie rinnovabili. La nostra capacità di produrre energie rinnovabili con l'idroelettrico, chiamandoci Piemonte ed essendo una regione di montagna con tanta acqua, che produce energia, può davvero creare quella circolarità dell'economia che ci chiede l'Europa e che credo possa essere davvero molto produttiva. Mi unisco ai ringraziamenti al Ministro Gelmini e soprattutto sono felice, signor Presidente Draghi, che le regioni vengano valorizzate come interlocutore credibile per una sfida che possiamo vincere soltanto rimanendo uno accanto all'altro. Intervento del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria, Donatella Tesei. Sì, buongiorno. Anch'io mi unisco naturalmente ai ringraziamenti, al Presidente Draghi, a tutti i Ministri qui presenti e ai colleghi. Per una regione come l'Umbria, che da tempo sta costruendo veramente la sua identità sulla sostenibilità ambientale, evidentemente questo è un progetto assolutamente calzante. e diciamo che ci permette di muovere i primi passi verso un percorso anche più articolato che vedrà l'idrogeno al centro delle fonti di energia rinnovabile, specialmente in alcune aziende strategiche per la nostra regione. Penso all'industria dell'acciaio, di Terni, piuttosto che ad altri siti industriali che hanno necessità di avere delle fonti di energia rinnovabile in questo momento anche così particolare. E naturalmente anche in Umbria possiamo utilizzare dei siti industriali dismessi e quindi questo è assolutamente coerente. Come tutte le cose, quando si condividono cosa che abbiamo fatto insieme al Ministro Gelmini e con il Governo, sicuramente tenendo conto di quelle che sono le caratteristiche e le esigenze dei singoli territori del nostro Paese, io credo che si possano raggiungere risultati che tutti noi auspichiamo. Questo è molto importante e spero che anche nei progetti futuri e quelli che stiamo ancora portando avanti ci sia proprio questa capacità di interlocuzione e di condivisione, perché è fondamentale per arrivare alla meta che ci chiede l'Europa ma ci chiedono principalmente i cittadini italiani. Grazie. Intervento del Presidente della Giunta Regionale della Puglia, Michele Emiliano. Signor Presidente, signori Ministri, la Puglia è la prima produttrice italiana di energie da fonti rinnovabili e abbiamo dato la piena disponibilità al Governo di varare ulteriori impianti anche offshore per aumentare questa capacità produttiva e questa è un'opportunità. Abbiamo altresì alcune minacce che derivano dalla necessità della trasformazione tecnologica della più grande acciaieria d'Europa probabilmente e quindi abbiamo candidato Taranto ad essere il polo, se possibile, nazionale per la sperimentazione delle tecnologie che consentiranno di utilizzare l'idrogeno anche nella fase industriale dell'acciaio. È un progetto molto ambizioso, molto complesso, quindi noi consideriamo la disponibilità del Governo a sostenere il progetto della Regione Puglia come strategico non per la Puglia, Presidente, ma per l'Italia e quindi come al solito la Puglia risponde al Paese con piena disponibilità e volontà di collaborazione. Intervento del Presidente della Giunta Regionale della Basilicata, Vito Bardi. Signor Presidente Draghi, buongiorno signori Ministri e a tutti i presenti. È un'occasione importante quella di oggi, fra l'altro vede il coinvolgimento totale delle Regioni che finalmente possono esprimere al meglio le proprie potenzialità. In Basilicata esiste il più grosso giacimento petrolifero d'Europa su terra. Abbiamo molto sfruttato, stiamo sfruttando le estrazioni petrolifere, abbiamo molto investito nell'eolico, sicuramente procedere per l'obiettivo della decarbonizzazione, quello per l'idrogeno, è sicuramente un punto importante e determinante. Noi possiamo riconvertire molte aree che sono state dismesse e sicuramente sarà un impegno comune non solo fra noi Regioni, ma soprattutto un'interlocuzione, mi auguro, sempre più diretta con il Governo, perché abbiamo tanto da fare e siamo sicuri che possiamo far bene se collaboriamo tutti quanti insieme. Grazie. Prende la parola il Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono molto contento oggi di avervi tutti qui. Ministri, cari Presidenti di Regione, Sottosegretario Garofoli, sono contento perché gli accordi di oggi sono un passaggio fondamentale nell'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Noi oggi definiamo i protocolli con le Regioni Liguria, Piemonte, Friuli, Venezia Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia per l'intesa sulla realizzazione dei progetti Bandiera. La scelta di farlo a Palazzo Chigi è un segno dell'importanza che il Governo dà alle Regioni e agli altri enti territoriali nell'attuazione del PNRR, ma la scelta dei Presidenti di Regione di voler venire qua è anch'essa un segno dell'importanza che loro danno alla realizzazione di questi progetti e spero ripeteremo, anzi sono certo, ripeteremo lo stesso momento d'incontro per tutti gli altri progetti Bandiera. Il PNRR è un piano che parte dal basso, come spesso detto. Questo di nuovo dà importanza questo incontro perché il PNRR spesso è visto soltanto come un grande documento che è stato studiato tra Bruxelles, Roma, però si dimentica che i progetti sono venuti da voi, sono venuti dai territori. Quindi ogni momento d'incontro va veramente considerato come un momento di consapevolezza dell'importanza che l'attuazione di questi progetti avrà. E d'altronde tocca a voi a progettare altri progetti, a attuare quelli progettati. E questi sono progetti, come appena diceva ora il Presidente Emiliano, di valore e anche il Presidente Toti, un po' tutti voi avete fatto questo punto. Sono progetti di profondo valore strategico per il territorio. Non sono progetti anche importanti, ma senza un valore strategico. Voi siete i protagonisti del Piano. Voi sarete quelli che il Governo, questo Governo, vorrà sostenere. E su questo potete contare. Potete contare incondizionatamente. Per questo voglio ringraziare tutti i Presidenti delle Regioni e anche i Ministri che sono stati direttamente coinvolti, in particolare i Ministri di Speranza, Ministra Messa, Ministro Cingolani e la Ministra per gli affari regionali che ha coordinato tutto questo sforzo. E quando si dice coordinamento non è una cosa banale. È proprio trasmettere il messaggio che viene dalle Regioni al Governo centrale e viceversa. È un continuo colloquio, direi quotidiano, colloquio che permette alle istituzioni di lavorare insieme, di lavorare in maniera coordinata. Quando manca questo colloquio finisce il dialogo e si perde tempo. Tutto qua. Quindi è importantissimo. I protocolli che firmiamo oggi riguardano due progetti di grande interesse territoriale e nazionale. Entrambi mettono a sistema diversi interventi previsti dal piano, grazie alle capacità di selezione e progettazione territoriale promossa da voi, dalle Regioni. Il progetto proposto dalla Regione Liguria serve a realizzare un centro di medicina computazionale e tecnologica, come è stato detto un attimo fa. Unisce infrastrutture scientifiche, tecnologiche, cliniche in modi innovativi e ha l'ambizione di diventare un punto di riferimento nel settore. Il progetto delle Regioni Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia punta a realizzare siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse. Contribuisce a stimolare la crescita, a creare occupazione. Ci avvicina ai nostri obiettivi energetici e climatici che il Governo è determinato a mantenere e anzi a perseguire con sempre maggiore convinzione. Presidente Emiliano, il suo riferimento al fatto di avere questo progetto a Taranto è particolarmente importante. La Puglia oggi è la maggior produttrice di energie rinnovabili e spero continui ad esserlo. Quindi molti degli investimenti che saranno fatti in questo campo vedranno anche la Puglia di nuovo come attore protagonista. La locazione di questi investimenti vicino a Taranto è fondamentale perché il Governo intende riportare l'ILVA a quello che era quando era competitiva e come lei ha detto è la più grande acciaieria d'Europa. Quindi non possiamo permetterci che non produca, che non produca ai livelli a cui è capace di fare, produce anche oggi. I progetti Bandiera intendono premiare le capacità creative degli enti territoriali, rafforzare la coesione sociale e territoriale. E come dicevo prima quelli di oggi sono solo i primi, ce ne saranno altri e voglio rivedervi tutti di nuovo qua. Grazie. Presidente, solo un ringraziamento al sottosegretario Garofoli perché devo dire che ci ha dato una mano come sempre, una mano straordinaria, quindi grazie davvero.